Complessa, articolata, ma meno costosa e meno impattante per l'ambiente. La possibile futura variante di Gimarra ha ora un nuovo volto, grazie al progetto presentato dalla Giunta Fanese e che nei prossimi giorni sarà senz'altro oggetto di dibattito, con la promessa che quanto prima, Covid permettendo, si darà il via anche a un vero e proprio confronto con i cittadini. Intanto il nuovo tracciato presenta senz'altro delle modifiche sostanziali, una su tutte, l'eliminazione della tanto discussa galleria. Abbiamo presentato oggi il progetto di Sintagma che prevede alcune modifiche rispetto al progetto inizialmente previsto dal Comune di Fano. La prima variazione riguarda la larghezza della strada, mentre prima era prevista una larghezza di 8,50 m, adesso è prevista una larghezza di 9 m, quindi due careggiate da 3,50 m più un metro di banchina per parte. La seconda modifica sostanzialmente è quella che elimina una galleria, una galleria naturale nell'abitato di Gimarra e sostituendola con un passaggio intorno alla collina, comunque nel rispetto dell'ambiente e lontano dalle case di Gimarra. Ci sono previste sei rotatorie, la prima lungo via Aldomoro, la seconda lungo via del Torrente, la terza lungo via del Carmine, la quarta lungo via di Villa Giulia, la quinta si trova per permettere l'accesso all'abitato di Gimarra e poi sulla statale 16. Sono previste ovviamente la strada lunga 3.500 m circa, si sviluppa appunto da via Aldomoro fino alla statale 16 e comprende una pista ciclabile che congiungerà via Aldomoro, proseguendo la pista ciclabile degli interquartieri, fino alla rotatoria di via del Carmine, quindi si collegherà Gimarra con via Aldomoro. La pista ciclabile sarà bidirezionale sul lato solo e sarà larga 2,50 m. Il progetto quindi si sviluppa da via Aldomoro, si avvicina e passa dietro il campo da calcio della zona trave, lambendo in particolare un angolo della pista Zengarini e del circuito podistico Marconi, sempre lontana dalle case e sempre nel rispetto dell'ambiente con opere di mitigazione che renderanno invisibile questa strada per poi attraversare comunque il torrente Arzilla in prossimità della zona Carmine e con una rotatoria davanti appunto la chiesa del Carmine proseguire poi verso la statale 16. Occhio di riguardo anche per l'area adiacente alla chiesa del Carmine. L'idea di collocare una rotatoria proprio di fronte al sagrato aveva infatti provocato ben più di un mal di pancia. Abbiamo studiato con particolare attenzione la rotatoria davanti alla chiesa del Carmine. La rotatoria davanti alla chiesa del Carmine è un elemento particolarmente difficile da gestire e abbiamo valutato anche la possibilità di poter migliorare l'attraversamento lungo via del Carmine in quanto potremmo chiudere anche un piccolo tratto di strada non dando problemi alla viabilità interna. Abbiamo spostato la rotatoria del Carmine lontana dalle case e più in basso rispetto alla chiesa e abbiamo anche previsto in programma la possibilità di qualificare il sagrato della chiesa del Carmine in maniera tale che possa essere anche più ariosa rispetto a quello che è adesso costretta così tra un bivio di due strade.